Musica 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 Ciao Pino, ciao, ciao, come stai? E insomma siamo quasi in poi Andiamo a cambiare Sono un altro salello Siamo facendo un piccolo briefing. Siamo facendo un piccolo briefing. Non vogliono riconoscerci come cittadini e cittadine uguali a tutti gli altri. E quindi per questo c'è bisogno di Roma Pride, per questo c'è bisogno della Pride Closet, per questo c'è bisogno di voi. Quindi qui con me il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, va a tutto il ringraziamento dall'amministrazione comunale al sindaco per il grande lavoro che stanno facendo e per il sostegno che non manca mai da tre anni. A questo non manca mai. Grazie sindaco, grazie a te. Grazie davvero, è un vero piacere essere qui. Questi trent'anni sono importantissimi, quindi vi aspettiamo numerosissimi al Pride, ma è davvero bello che questo villaggio che stanno sia straordinario. E quindi Roma si prepari a questo appuntamento con incontri, dibattiti, apertura e inclusione. Noi vogliamo essere la capitale dei diritti e vogliamo che il Pride sia sempre più un evento straordinario, che parli alla comunità, al GPP, al Plasma, a tutta la città, a tutto il mondo. Perché Roma deve essere la capitale dei diritti, dell'inclusione, dell'amore, quello deve poter essere più uomini e quello deve essere una città dei diritti e non accetteremo che nessuno possa conflutare questi diritti. Noi siamo al fianco della comunità e vogliamo che questo è un Pride che trent'anni deve essere davvero di gioia, di divertimento, di farlo, ma di lotta e di combattimento. Quindi sarà tutto questo e noi saremo con voi. Grazie.